Questo progetto di legge riguarda appunto un problema grosso che c'è in Regione Lombardia, cioè la carenza idrica per la nostra agricoltura, ma non direi solo per la nostra agricoltura, anche e soprattutto per l'ambiente, ricordiamoci sempre. Qual è il problema fondamentale? Appunto che quello che ci viene detto anche nella relazione non c'è abbastanza acqua per la nostra agricoltura, ma qui dobbiamo porci il problema perché non c'è abbastanza acqua per la nostra agricoltura. Qui si cerca di risolvere il problema cercando di trovare una soluzione che francamente dal punto di vista del merito e anche dall'applicazione di questa legge non è affatto una soluzione. Perché se il problema è che non c'è abbastanza acqua per la nostra agricoltura, il problema è che la nostra agricoltura richiede troppa acqua. Questo è il vero problema che non si vuole assolutamente non solo risolvere, ma non si vuole proprio minimamente toccare. Infatti non è stato fatto nulla in questi cinque anni, praticamente nulla per cercare di modificare il nostro sistema agricolo intensivo a monoculture che utilizzano tantissima acqua in un contesto ambientale in cui non può più essere sostenibile questo sistema e con reti irrigue e sistemi di irrigazione che non sono ormai totalmente inadatti per proprio la disponibilità di acqua che esiste. Perché più noi consumiamo acqua e continuiamo a consumare acqua eccessivamente in agricoltura, più e meno ne avremo a disposizione. E questo provvedimento assolutamente non risolve il problema perché non va a toccare la fonte del problema, cioè la nostra agricoltura. Ma oltre dal punto di vista del merito e come principio, questo progetto di legge non risolve praticamente nulla perché è stato detto nella relazione che la priorità è la crisi idrica per il settore agricolo. Quindi come risolviamo questo problema attuale, perché se si fa un progetto di legge vuol dire che il problema è attuale, si fa con un progetto di legge che ottimisticamente parlando per due anni farà in modo che non succeda assolutamente nulla. Cioè questa è una legge che fa in modo che per due anni non avverrà nulla in regione Lombardia. Infatti si dice che la giunta regionale entro un anno, dall'entrata in vigore di questa legge, quindi entro un anno, quindi la giunta avrà a disposizione un anno, ben un anno, quindi il problema è sentito proprio, è un problema urgente questo, per andare a individuare con proprio deliberazione le parti dei compressori di bonifica eccetera. Una volta che era fatto questo, quindi un anno, la giunta avrà ancora 180 giorni, quindi sei mesi, quindi vediamo proprio l'urgenza di questo problema, dall'adozione del provvedimento previsto all'articolo 91 ter, individua gli ambiti già previsti nei vigenti piani provinciali, potenzialmente idonei a realizzazione di bacini idrici per l'accumulo, cioè quali sono quelli iate, quelle zone potenzialmente idonei per essere utilizzati come bacini idrici, quindi per andare a iniziare ad accumulare acqua. Poi, una volta fatto questo, quindi passano un anno, sei mesi, un anno e mezzo, ferma le stando, bla bla bla, previa variante del relativo piano, cioè il piano cave fondamentalmente. Quindi dopo un anno e mezzo bisognerà fare le varianti piano cave, per andare, una volta individuate quegli ambiti territoriali, individuata la zona in cui c'è bisogno, c'è carenza idrica, c'è bisogno di acqua, bisognerà fare finalmente la variante di piano. Quanto dura la variante di piano? Ottimisticamente parlando mesi? Va bene, parliamo di mesi ottimisticamente parlando. Quindi, ottimisticamente parlando, fino a nei prossimi due anni, questo progetto di legge non avrà assolutamente effetto. Se il problema è urgente, si è sentito, cosa impedisce di iniziare subito con varianti di piano? Là dove ci sono dei problemi? Abbiamo sentito che ci sono, perché sono venuti in audizione a parlarci al comune di Calcinato, le zone della provincia di Brescia, ci sono problemi. E che? Cosa impedisce di cominciare a farle adesso? Cosa impediva di cominciare a fare le varianti di piano prima ancora di depositare questo progetto di legge? Quando è stato depositato mesi fa? Eh, abbiamo già guadagnato mesi. Invece, bene che vada, fra due anni forse si inizierà a fare qualcosa, intanto ci saranno due anni di crisi idriche. Poi, ci sono altri punti di domanda da fare in questo progetto di legge. Quanto costerà? Non ci sono stime dei costi? Quanto costa impermeabilizzare un bacino? Quanto costerà tutte le opere di progettazione? Qua non c'è assolutamente una stima. Quanti milioni di euro serviranno? Quindi, magari soldi che potevano essere utilizzati per altro modo, per altri fini. Quello che dicevo io all'inizio, ad esempio. Il problema, inoltre, è sollevato da Ispra, nella sua nota. Il problema della qualità delle acque. Eh, come si fa a controllare che le acque che confluiranno dei bacini idrici siano qualitativamente idonee? Eh, bisognerà fare studi, bisognerà approfondire questo. Non c'è alcun riferimento normativo su questa questione, in questa legge. Per cui, questo progetto di legge è carente anche da questo punto di vista. E poi, anche capire a chi serve questo progetto di legge. Cioè, interessa tutta la Lombardia o interessa effettivamente solo a una piccola zona della regione Lombardia? Quindi, a cosa serve questo progetto di legge? Per risolvere veramente i problemi, per fare campagna elettorale. Perché questa è la questione reale di questo progetto di legge, che è inutile. Il nostro parere, come abbiamo espresso in Commissione Agricoltura, è totalmente contrario. Vediamo, nella discussione, cosa salterà fuori. Ma ci sono punti interrogativi fortissimi, come quelli che abbiamo, che ho appena elencato. Che è un problema che questo progetto di legge, ricordo, non risolve assolutamente. Quando si poteva iniziare, già adesso, a fare qualcosa. Grazie.